Appaiono vicine a una svolta le indagini sull'agguato di Alatri. Due persone, forse fratelli, sarebbero stati interrogati fino a notte fonda in caserma e si sarebbero presentati spontaneamente. Ma la procura di Frosinone, al fine di non compromettere lo sviluppo delle indagini, ha chiesto il riservo e in una nota il procuratore Antonio Guerriero ha smentito le ricostruzioni sugli sviluppi investigativi emersi nelle ultime ore e ha ribadito il massimo impegno per individuare i responsabili di tale delitto. E' ancora aperto il caso dell'aggressione di Thomas Brick, a 19 anni compiuti a dicembre e colpito lunedì sera da un'arma da fuoco nel centro del comune del Frosinate, secondo le testimonianze raccolte da due giovani a bordo di uno scooter. Sono stati vagliati i filmati delle telecamere di sicurezza della polizia municipale, pur essendo un punto cieco la piazzetta dove è stato colpito. L'ipotesi di reato e di omicidio volontario. Il colpo non era per lui, hanno ripetuto i suoi amici. Una vita spezzata dopo 40 ore di agonia non ce l'ha fatta Thomas. Le sue condizioni, pur divenute ad un certo punto stabili, erano state giudicate da subito gravissime e si è spento ieri all'ospedale San Camillo, dove era ricoverato per una imponente lesione celebrale. L'arma dell'omicidio, una revolver o una pistola semiautomatica che secondo indiscrezioni sarebbero compatibili anche con le prove raccolte sul luogo dell'aggressione. Il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, ha annunciato che il Comune, quando si celebrerà il processo, si costituirà sicuramente parte civile.